al campo scuola di pistoia si è scritto un nuovo record mondiale per la staffetta 4 per 400 della categoria master over 85 e da assegnarlo è stata proprio l'italia 6 53 22 mezzo minuto più rapido del precedente record che apparteneva ad un quartetto della germania con 7 23 31 autori dell'impresa il presidente della pistoia atletica remo marchioni 87 anni il coetaneo francesco paderno giancarlo vecchi di 86 e benito bertaggia di 85 d'accordo che siamo vecchi i master sono vecchi ma i vecchi insegnano i giovani questo è importante che i giovani imparino dai vecchi ma qual è il suo segreto allora guarda io ti posso dire questo alla mattina tassativamente da da quanto la mia memoria arriva indietro con gli anni io mangio una tazza di latte bianco qualche spezzettino di pane comune pane toscano quello che non è salato poi ci metto non voglio fare pubblicità perché non mi hanno mai neanche dato una tortina in omaggio e quindi tortina porretta ci metto una tortina porretta mescolo il tutto e mangio quella questa poi al giorno pochissima roba al giorno adesso che era l'estate un passo l'estate una fetta di melone con una fetta di prosciutto normalmente io vado molto con frutta sempre non non mi altro mai da tavola se non ho mangiato almeno cinque tipi di frutta importanti risultati sportivi ma anche tanta soddisfazione per l'organizzazione della gara oggi è stato battuto anche un record di partecipazione l'edizione dei campionati italiani master a pistoia ha visto 150 trading gara eccezionale non so la gente viene volentieri qui a pistoia e io mi sono domandato perché viene volentieri indubbiamente trova dell'accoglienza trova una bella città ma perché noi ci sappiamo che fare ci diamo da fare vecchi giancarlo quanti anni hai 1936 86 86 anni l'accoglienza ha già venito 85 e 7 mesi